Musica E benvenuti in questo video come sempre io sono Tecnologi e siamo tornati con un minigioco sempre su Rainbow Six Siege Ragazzi è quasi mezzanotte però a noi non ce ne frega niente Tanto salutate ragazzi dai su salutate E siamo con Gioele, Luca, The Master, Della e Algame Conoscete tutti Della perché Della fuma cannella Ok ragazzi il minigioco di oggi è E chi è che crascia? Eh è una bella fuma cannella Ok finalmente siete tornati Il minigioco di oggi si chiama il percorso di Glaz Perché in pratica io sarò Glaz e sarò il cecchino che starà sopra diciamo al tetto di Canal Invece loro saranno coloro che dovranno completare il percorso e quindi completare la prova di Glaz Avranno un percorso lunghissimo da fare che dovranno completare senza farsi cecchinare da Glaz Dopo vi farò vedere il percorso Si faranno tre round dove io sarò il cecchino e loro saranno quelli che dovranno completare il percorso Chi di loro completa il percorso più volte farà il cecchino e io sarò in squadra con quelli che dovranno completare il percorso Ora andiamo subito a vedere il percorso che loro dovranno fare Il punto di partenza sarà dietro a questo container Io invece sarò Glaz e starò lì in cima a fianco a quelle parabole E ora vi farò vedere il percorso che dovranno completare loro usando più strutture a loro vantaggio per non farsi colpire da me Ragazzi questo è il percorso E dovrete continuare a correre Finché non rientrerete dentro alla centrale di canal di qua Quelli che entreranno saranno salvi Vi ricordo che vi ho messo anche 200 di vita in modo da non shottarvi al primo colpo Così voi sarete più avvantaggiati Però se vi beccherò in testa ragazzi quella è la fine Ok direi pronti Partenza via Managgia guarda Guarda Luca guarda Nooo stavolta escono dall'altra parte Managgia sono Ma guarda Uh uno è andato Quanto ho abbandonato Managgia Guarda Guarda Luca che fa il furbetto Nooo Visto in questo modo Sembra facile E' solo che non so chi prendere Perciò vedi che mi confondete Chi va nel ponte? Tutti voi di che ci dovrete passare in quel ponte Perciò Chi va nel ponte? Ragà vogliamo andare in 5 ore nello stesso momento Nooo Ora ragazzi C'è l'altro ponte più difficile anche E qua cominciano a cadere tutte le vittime qui ragazzi Ho provato a riasciare Ehi Ehi È andato E' andato No 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 Ai 100 vita Alga Perché corro dall'altra parte Ah ha preso Cinque di video ragazzi No, guarda, Luca, da dove si è messo... Alga, se esci, ti faccio la testa! Ti dividono pochi metri? Vi stanno dividendo pochi metri! No, non riesco a prendere! No, no, il palo! Mi sa che ho preso il palo! Deca, metti il mirino termico! Ma guarda che ho sempre usato il mirino termico! Ah! È la mia cazzo! No! Oh, ma non muore, camera! Non muore! Ah, no, tutti uno divide! Oh, ragazzi, ma quello è il piede! Dal piede, no, vabbè! Devi arrivare, Luca! 3, 2, 1... Addio! No! 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 Non so che ce la fa! Ecco! Sì! Sì! Guarda gli altri come insultano! Quando voi passate sul ponte, io posso usare solo la pistolina, ok? Così sarà ancora più facile per voi! Ma pure il corridoio che va verso l'alto che... Ok, 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 ok! Ok, pronti, partenza, via! Sporzare la maletta! Guarda, che... 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 No, no, mi ha già beccato! La come, vabbè! E ora si comincia a morire un po'! Pistola! Ma non siete ancora sul ponte? Io sì, sono sul ponte, sono sul ponte, sono sul ponte! Va! Sono nel corridoio, non voglio sapere niente! Ehi, come a quel che c'è... non che ce l'hai ora! Perché la mira qui è da... è comprata su Amazon! Dai, corri! No! No, no! Corri! Corri! No, sto io... No! Yuri! Yuri! La teca ha comprato la mira... Corri! No, 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 sto ricaricando, è schifoso, sto ricaricando Oddio, oddio ragazzi, ho solo un colpo No, no, c'è un colpo 5 divisa No, vabbè Bravo al game, bravo Alga Ok, sono pronto, 3, 2, 1, via No, la testa Che succede? È doc Cavolo Oh, ma quel doc ragazzi di che non muore Ma perché ho fatto una roba Avevo due 40 Di tante persone ha venuto a uccidermi Ma di tante persone, perché ho ucciso me? Dai, no, tec, non con me, ti frego Chi è questo? Oh, ma doc, ma tu non muori Uccidi solo me, perché io mi curo, non ho più stringhe adesso No, aspettate che ho uccido master ragazzi Sennò lui, arriva alla fine Tu ho spot, tu ho spot, tu ho spot Tu sta a mirare Ah, ma ce l'ha con me? Spiegati Alga Alga, spiegati Alga No, ti sta a mirare Alga Io uso la telecamera Io uso la telecamera Tutti io No, no master No master Vai master ragazzi Vai, vai, ci faccio il master Vai, guarda Ha vinto Ha vinto Non me ne frega, io sono entrato Aspetta, aspetta, aspetta ragazzi Che mi avete fatto deconcentrare Che mo' stendo Alga Perché Alga non può entrare per due volte Se no è quello più avvantaggiato lui Ma no Aspettate che voglio proprio vedere il cadavere di master Che lui ha detto che è entrato Sì, sì, è dentro, è dentro Guarda che schifoso Guarda che schifoso Cioè il bello tipo che l'ho ammazzato qua Secondo me diva barcollato ed è entrato Che schifoso va Ok ragazzi Eccoci qua per la finalissima I nostri finalisti sono Della, master In verità ci doveva anche stare Alga Però Alga purtroppo ragazzi Ha avuto dei problemi di connessione E purtroppo l'abbiamo perso Invece Gioele e Luca Che si sta a nascondere qui Loro che non hanno fatto neanche una volta Verranno eliminati Questa volta ragazzi Vince quello che completerà il percorso per primo Oppure se non riuscirà a completare il percorso per primo E verrà eliminato prima Vincerà quello che avrà fatto più strada Nel percorso Vi ricordo che il vincitore di voi due Sarà lui il Glaz al prossimo round Detto ciò Pronti? Partenza? Via! Vi sto aspettando Senza pietà Mannaggia vi faccio la testa Vi faccio Uulala It's a problemino Problemino qua Della facciamolo insieme Tre Due Uno Vai Go 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 vai Master Ci sono tutti Aiuto Cavolo mannaggia Master Ti uccide Master Da qua Ti uccide Master Ti mira sopra Ti uccide così Ti mira Oh ma che è questo che non si ferma È Della Decidere Eccolo La testolina di se hai capito La guerra all'ultimo sangue Regà regà andatevi 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 No 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 Non fatti Puoi usare il cicchetto Ma ragazzi Master sta andando senza paura Ma deve Da voi Faremo È il vincitore Ragazzi È Della Sì Sto per arrivare Guarda lì Tre Due Uno Via Aiuto Guardalo Ah devi usare la pistola Nei punti Focali Devo usare la pistola Nel punto Nel corridoio Esatto Aiuto Ah vabbè A noi non l'ha usata proprio Ci scoccia di spizio Ma vai a mirare gli altri Guarda che c'è Luca Che sta per vincere Guardali che stanno per vincere Liscio Liscio Non è possibile Fai schifo Io sto correndo Io mi sono mai fermato Ma neanch'io mi sono mai fermato Io ti sei una mista Ma va 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 Neanche uno Neanche uno Non vedo Oh ce l'ho fatta Fai schifo Neanche uno Mamma mia Allo zò Allo zò E dacci il via Oh master torna Non fare il furbo 3 2 1 Via Guarda master che ha fatto il furbo E io veramente sono tornato subito indietro Non pensavo che si poteva fare Devo usare la pistola sotto il punto Guardalo che non mi prende Ma come ho la pistola Il fucile adesso Il fucile Oddio Sono rimasto solo io Aiuto 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 ragazzi Aiuto Dai dai che ce la posso fare Dai 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 Ce l'ho fatta E vinco Allo zò Allo zò Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta